Io guardo i numeri, lo scorso anno abbiamo fatto l'alleanza su due comuni, Termini Marese e Barcellona-Pozzoricolo. Quest'anno abbiamo 10 comuni al voto superiore ai 15.000 abitanti. Facciamo l'accordo a Caltagirone, ad Adrano, a Lentini e di fatto c'è grande intesa a Favara e anche a Noto. Ancora siamo in tempo per trovare l'intesa su Rosolini, quindi abbiamo la maggioranza dei comuni al voto dove sostanzialmente c'è un'intesa importante, quindi non soltanto teniamo il centro-sinistro comune, ma lo allarghiamo al Movimento 5 Stelle. Il centro-destra, posso fare la stessa domanda dall'altra parte perché ho l'impressione che non c'è un comune dove va al Movimento, quindi voglio dire, io ritengo che veramente insieme con il Movimento merito non soltanto delle segreterie regionali, dei deputati, ma merito soprattutto come qua da Adrano dei dirigenti locali, si è fatto un grande lavoro. Questa è un'alleanza che anche a livello nazionale andrà avanti se parte dal basso. Nessuno è in grado di telefonare dalla stanza dei bottoni e imporre alleanze. Qua Adrano è maturata, ma credo che lo potranno confermare bene e meglio di me i colleghi. È un'alleanza che è partita sui temi, sulla lotta alla povertà, sulle diseguaglianze, su questi temi ci troveremo, ci siamo trovati e ci ritroveremo.